Il padre è sempre quello che deve farsi la breccia davanti a tutto, grazie a Annalisa e alla sua squadra di AC Brothers che presentano il loro brano originale, coreografato dell'Analisa Puzzetti e si presentano davanti alla giuria Quando siete pronti mi alzate la mano così, già davanti ai giudici, così riesco a vedere voi che siete pronti Non riescono a farlo partire questo brano come si deve Non riescono a farlo partire come si deve Non riescono a farlo partire Non riescono a farlo partire come si deve Grazie a tutti 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 Grazie a tutti